Benvenuti ragazzi nella cucina di Valerio's Kitchen Oggi il primo video in italiano Applauso per tutti coloro che non parlano un cazzo di inglese Il motivo per cui stiamo facendo questo video in italiano è perché la settimana scorsa Non so se avete visto, è uscito un video in cui io ho intervistato il mio più grande fan Durante l'intervista che è linkata in descrizione Davo la possibilità a questo grandissimo fan di scegliere una video ricetta Vediamo cosa ha scelto lui Quindi mi dai questa opportunità di scegliere un video del tuo canale Scegli esattamente, scegli una ricetta e forse sarà fatta Chi mi segue, quei pochi che mi seguono, sanno che io adoro la carbonara Adoro la carbonara Vedete che ha scelto la carbonara, un piatto che mi sta a cuore soprattutto per il mio canale Perché come voi ben sapete, i miei accaniti follower Ho creato questo canale anche per diffondere la cucina italiana all'estero E la carbonara all'estero la fanno una merda Proprio aiutemi a dire merda Quindi primo consiglio, non prendete la carbonara all'estero e vi lamentate Che cazzo prendete la carbonara all'estero? Già al nord Italia, così e così, se sconfinate proprio lasciate perdere Quindi adesso andiamo a vedere gli ingredienti Il mio camera mi facendo che c'è un pezzo di cappa Se facciamo quanti? 1000 like la buttiamo giù a Natale? Facciamo il video per paccare questa cappa di merda che ho in cucina Vediamo agli ingredienti Primo ingrediente, gli spaghetti Abbiamo scelto i spaghetti, potete prendere pure le mezze maniche, i ricadoni, qualcosa di molto simile Non fate cagate, tipo i bucatini o le linguine quasi quasi Ma va allargare più bene Secondo ingrediente, il pecorino È la stessa volta che lo dico perché il mio camera è un mongolore La ricetta regionale prevede che ci sia solo il pecorino Ma noi colpo di scena abbiamo anche il parmigiano Incredibile amici Un parmigiano ce ne mettiamo molto di meno del pecorino Però un pochino ci sta bene Anche la carnizione sopra io riesco il parmigiano Perché il pecorino è molto sabato Le uova, ovviamente abbiamo le uova Il tuorlo lo prendiamo Il bianco lo teniamo in frigo per fare meringhe E poi ci abbiamo il guanciale Che ovviamente è una cosa prettamente romana C'è molta diatriba che fa usare il guanciale La pancetta Io dico il guanciale perché è un po' più saporito della pancetta Poi è proprio romano Vabbè, si cazzo, il buon ciao Raga, mettete sull'acqua perché c'è un po' più bollire Primo step, non vi faccio vedere che va salata prima di buttare la pasta Perché sto vedere in italiano Saranno maggior parte italiane Non fate Soprattutto è baffata a bollire Grazie il camera La pasta va buttata quando l'acqua bolle Queste sono delle basi Però all'estero, lo vedete, sono dei cani Anzi, visto che ci siamo Io ho fatto questo canale per diffondere, come ho detto prima, la cucina italiana all'estero Mi dovete dare dei suggerimenti su come farlo Perché io li volevo aggredire e riinsultare Però mi è stato detto che probabilmente non è il modo migliore per farsi prendere in simpatia E farsi ascoltare Giusto, camera? Sì Grazie a me Non è carico Passiamo a tagliare il guanciale Sto togliendo la parte del pepe Che in realtà potrebbe anche essere lasciata Per il semplice fatto che Non essendo proprio freschissima Questo guanciale ce l'ho togliendo un po' È un po' amaro L'altro giorno l'ho assaggiata Non mi piace Diciamo che questa pasta se la dovrà mangiare il mio camera Quindi a me tendesse a mettere mai prega niente Potrebbe anche intossicarsi Però lo sto salvando Perché comunque È un soggetto importante Mettete a fiamma Bassa ma non bassissima Il guanciale lo mettete direttamente nella padella Senza aggiungere olio o burro Cagate vari che fanno all'estero Questo perché Diciamo il guanciale già è grasso E soffriggerà nel suo stesso grasso Praticamente lo rilascerà In più questa ricetta è per Cicciccambra89 Che vuoi sapere benissimo Non mangia più cose grassi Quindi l'olio non lo vuole Lui lo repelle Repelle l'olio Apertura delle uova Abbiamo detto L'uovo intero E per la frittata Per la carbonara Serve solo il tuorlo Quindi quello che facciamo È salvare il bianco Che mettiamo da parte E lo mettiamo in frigo Per farci le meringhe La ricetta di Valerio's Kitchen Arriverà breve Se non è già arrivata Quindi state in allerta Mettete le notifiche sul canale Mettiamo via il guscio Prendiamo il secondo uovo Togliamo il bianco E chiaramente il secondo uovo L'ho volutamente rotto Per far sì Che venga Ma cagliato Allora dove si Abbiamo messo il bianco in frigo Iniziamo a grattare pecorino Una tonnellata Come dice Mirko Perché tanto Anche Mirko ha fatto questa videoricetta Carbonara Cucina Chef Ciccio Lo troverete sicuramente Anche lui ha un canale YouTube Non so se lo sapete Nel frattempo Si sta bruciando il guanciale Quindi abbassiamo Anzi lo spegniamo proprio Perché tanto la padella rimane grande E continua a soffriggere Un momento speciale al cameraman Nel suo tempo Io lo insulto E ho un grande piacere di insultarlo Però Lo ringrazziamo Lo restiamo qui Fa ridà la gente Che dà le grammature 40 grammi di pecorino 27 di parmigiano Ma che cazzo ne sei Quanto ce ne voglio io Di pecorino e di parmigiano Poi dipende Dalla grandezza delle uova Da quanta gente c'hai Da quanto mangia Questo è il mondo Che non si può mai sapere Parmigiano cameraman Ci sei? Vi ho detto Parmigiano Un po' di meno Giusto per Contrastare il sapore forte Del pecorino Non che il parmigiano Non ci abbia il sapore forte Ma leggermente Più soft Mi sono dimenticato ragazzi Carbonara Perché si chiama carbonara? Il cazzo di pepe Me lo vuoi ricordare il cameraman? Io non lo so Il pepe Guarda Sta qui Dato che Questa è una ricetta Speciale Per un mio fan Se questo pepe si apre Si apre Lo schiacciamo col mortaio Vedete? Una figata Così all'estero Si casa molti quanti Guarda in Italia Cuciniamo col mortaio In realtà No Lo potete tritare Al momento Col cortello Lo sbattete O così L'acqua sta bollendo Ci butto la pasta Quanta fame c'hai? Lavracca Lavracca Quanta fame c'hai? Grazie a tutti Ok, tirate fuori gli spaghetti un 30 secondi, un minuto prima della cottura, li fionnate nel guanciale, un goccio di acqua di cottura che c'ha un lamido come voi ben sapete, alzate la temperatura e ci fionniamo dentro con la marisa, quello che viene comunque comunemente del pino, pastello. Grazie a tutti Ragazzi, oggi piatto nero fantastico, top, eccolo qua, solamente per il mio fan numero uno, Mico Alessandrini. Serviamo a 15 mila mark, i 5 euro del piatto me li ripaga lui. Ragazzi, questa è la carbonara per Ciccio Gamer 89. Quando vuoi venire a mangiare nella tua cucina preferita, Ciccio Gamer 89 sei il benvenuto, per me sarei sempre Mirko. Masse il bono.